Ciao ragazzi e buon lunedì! Siamo qua insieme come tutti i lunedì con la sfida del risparmio 2017 Vediamo questa settimana quanti soldini dovremo mettere da parte per riempire il nostro barattolone Allora, shakeriamo Abbiamo una pillolina marrone che ci fa l'occhiolino Fogliettino viola E sono 22 euro Quindi questa settimana, quindi settimana 30 Prendiamo la penna Allora, 22 euro settimana 30 Ok, beh dai, non è male tutto sommato A voi come sta andando? State recuperando quelli che non siete riusciti a mettere? Io un po' alla volta sì, quindi dai, tutto sommato Sono abbastanza fiduciosa di riuscire a fine anno a mettere l'intera somma all'interno del barattolino E insomma, poi ovviamente se non ce la farò, vabbè, comunque è una prova Sto già iniziando a pensare a cosa proporvi per il prossimo anno Non credo che farò di nuovo questa sfida Perché comunque ho visto che è molto impegnativa Però insomma mi inventerò qualcosa Eventualmente pensateci anche voi e datemi qualche idea scrivendomela giù nei commenti Ok, io vi saluto Come sempre vi lascio un grosso bacione Mettete tanti like Iscrivetevi al canale Vi ricordo che sono anche su Facebook, Twitter, Instagram e su Tumblr Un grosso bacione a tutti A presto, ciao ciao Ciao